Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del CONI, Presidente del Comitato Paralimpico, atlete ed atleti, essere qui oggi alla cerimonia della consegna della bandiera italiana per i giochi olimpici in rappresentanza del Governo non può che dare una grandissima emozione. A maggior ragione perché per la prima volta nella storia dello sport italiano ci sono due donne a rappresentare il nostro Paese, Federica e Martina. I giochi olimpici sono uno dei simboli che meglio raccontano l'essenza dei nostri valori, simbolo di lealtà, di spirito di dedizione, di amicizia tra i popoli. Ai giochi olimpici sono legati alcuni momenti che appartengono alla nostra storia collettiva come semplicemente attimi della nostra vita familiare, trascorsi davanti agli schermi televisivi a tifare per i nostri atleti. Avevo dieci anni e ricordo i miei primi giochi olimpici, quelli di Barcellona del 92, in particolare la finale di pallannuoto tra Italia e la Spagna, padrona di casa. Li ricordo perché a questa partita è associata un'immagine viva ed entusiasmante della nostra bandiera. Alla fine dei tempi regolamentari il risultato è in perfetto parigio, 7 a 7. Cominciano i tempi supplementari e subito il suono acuto del fischio dell'arbitro concede un rigore agli spagnoli, un rigore quantomeno dubbio. La Spagna quel rigore lo segna, ma al gol subito dagli azzurri non segue alcuna delusione e la bocca risoluta di Sandro Campagna, che oggi è l'allenatore della nazionale di pallannuoto e allora invece era in vasca, comincia a urlare più volte ai compagni, carattere, carattere. Non i soliti incitamenti, dai, forza, andiamo. Ricordo perfettamente Campagna, gridare quella semplice parola, carattere. E in quel preciso momento l'Italia tira fuori esattamente ciò che le chiede il suo capitano, il carattere. Fatemi aggiungere il carattere italiano, quella capacità tutta nostra di dare il meglio di noi nei momenti più difficili, di rialzarsi nei momenti in cui tutto sembra perduto, di lottare contro tutto e contro tutti. Così, in nome di quel carattere, i ragazzi del Settebello nuotano con più forza, girano la palla con più velocità e mantengono la calma quando gli spagnoli perdono la testa e la buttano in rissa. Pareggiano con un gol spettacolare di Ferretti e dopo due tempi supplementari vanno a vincere con un gol indimenticabile di Gandolfi. È storia. Non si cancellerà mai nella nostra memoria, quella immagine, nella mia memoria, quella immagine di quel tifoso che dopo la vittoria si butta in acqua con un tricolore. Ecco, quella bandiera insuppata di acqua diventa, nel ricordo, qualcosa di inestimabile. Inestimabile come quella semplice e decisa parola ripetuta dal Capitano Azzurro per infondere energia ai suoi compagni di squadra. Carattere. Quel carattere, quella stessa forza d'animo che ogni giorno dimostrano gli atleti. Il vostro impegno ci insegna quanto siano grandi le risorse dentro ciascuno di noi. Quanto lo sport sia veicolo di valori umani universali e quanto possa essere esempio per tutti. proprio qui a Roma nel 1960 si disputò la prima edizione dei giochi paraolimpici. Una piccola grande rivoluzione nel mondo dello sport che ci spinge ad impegnarci ogni giorno perché i diversamente abili possano allenarsi, competere, realizzarsi anche nello sport. Rappresentare l'Italia di fronte agli occhi del mondo può dare una sensazione di vertigine, di paura, di solitudine. Ma voi sapete di non essere soli. Il tricolore che portate con voi è qui per dirvi che quando sarete lì a Rio, all'Olimpiade, tutti noi saremo con voi. Con voi ci sarà un'intera nazione, un intero paese per cui voi siete un esempio. Un esempio di forza, di agilità, di coraggio, di sacrificio. Un esempio di dignità nella vittoria come nella sconfitta, suggelata dalla fierezza della nostra bandiera. E quando sarete laggiù sul campo di gara, in pedana, in pista, in vasca, percepirete la forza racchiusa dentro questa bandiera. Quando sentirete il braccio farsi troppo pesante, le gambe che non girano più, la mente che si offusca per la fatica, pensate a questi colori. Pensate che ci sono 60 milioni di italiani che stanno respirando all'unisono con voi, stanno lottando con voi, stanno bruciando quegli ultimi benedetti metri insieme a voi. E ritroverete tutto lo slancio e tutta la forza di cui sapete disporre. Ecco quello che questa bandiera vi dice. Vi dice che dietro di voi c'è un Paese intero che vi spinge e vi sostiene. E se all'improvviso doveste dimenticarlo, con voi ci sarà sempre lei, la nostra bandiera, a ricordarvelo. Con i suoi tre colori, il verde, il bianco, il rosso. Sono certo che sarete degni del tricolore e saprete fornire un esempio di carattere italiano al mondo intero. A nome mio e del Governo, in bocca al lupo a tutti voi e grazie.